E siamo pronti per un nuovo piatto del Gardo, oggi pollo e peperoni, pollo rostrano del mio contadino Mauro, guardate che bella polpa che ha, che odore che ha, peperone giallo, peperone rosso, a me piace allumatizzare il basilico con un po' di aglio, in abbinamento questa selezione in esclusiva premino.com, il primitivo di Manduria 2019, colore molto bello, un rubino intenso, acceso, bella compattezza del bicchiere, il naso mi ricorda questa visciola, questo tocco osservato che mi ricorda poi il rosmarino, questo richiamo alla macchina mediterranea con questa chiusura di pepe nero e ginepro, la bocca sentiamo l'annata, la sua densità, la sua piacevolezza, un vino pieno, denso, ampio, questo ritorno di frutti rossi, questo è il finale leggermente a mandorlato, di grande profondità, ragazzi allora, nella padella, olio ve lo caldo, spicchio d'aglio in chiamito schiacciato, il nostro basilico, andiamo a mettere il nostro pulito, una coscetta, un'aletta, un'altra coscetta, aspettate che do un po' una succia fine, che va sempre bene, il nostro petto, e lo mettiamo in un altro vestito, una panella di rami, un po' vivo, adesso abbiamo aggiungito il nostro peperone, mentre ci fai tutto, ci facciamo accogliere, ci facciamo sempre il mio bar, mettiamo i peperoni qui sopra, bene, a coprire, facciamo la ragionare un po', abbiamo preso, cede la fiamma, andiamo a abbassare, teniamo il picco peco qui sopra, un'oretta e un quarto, un'oretta e mezza circa, sarà pronto, ed ecco qua, il nostro pollo con i peperoni, guarda come luccica, basilico, peperone rosso e giallo, in abbinamento, filicaia, primitivo di Mandurua 2019, cin cin.